Grillini, l'Italia peggiore, hanno appena votato per il MES per salvare la poltrona. Dei disoccupati che stanno in Parlamento e voterebbero qualsiasi cosa. Veramente l'Italia peggiore. Grillini, ignoranza, incapacità, menzogna. Mandarli a casa sarà un dovere, mandarli a casa sarà un piacere, mandarli a casa sarà la vittoria della verità e della libertà. Grillini, siete penosi.